Grazie a tutti. Prima presentata e dopo ammessa dal Tribunale Permanente dei Popoli. In effetti in questa domanda si fa vedere l'esistenza di una macro-iniziativa politico-economica in via di esecuzione con vera capacità di incidere gravissimamente in forma negativa sugli interessi vitali come l'ambiente e la salute e sui diritti e le aspettative di ampi settori di popolazione e anche delle generazioni future. D'altro canto questa è una collettività colpita anche in modo grave sui diritti politici e di partecipazione per il fatto di non essere stato veramente sentita nella presa delle relative decisioni e perché non conta neanche con dei canali istituzionali per esprimere queste, per esprimersi insomma. In più è questa l'iniziativa contro quella che si lotta per quanto ho sentito che può incidere in forma meno diretta però non meno importante sugli interessi dei settori massivi dei cittadini per l'opacità nel modo di agire, per la deviazione delle risorse collettive per gli interessi privati, per lo sperpero dei fondi pubblici e perché l'unilateralità e la mancanza di trasparenza nella gestione politica è una forma di espropriazione della capacità di decisione di tutti i consociati. colpisce a tutti, a tutti noi. In questo momento, a questo punto non esistono frontiere perché proprio questi interessi li hanno prima aboliti per tutti noi. Bisogna adesso infatti che questa abolizione delle frontiere serva per far passare anche i diritti. Solo per questo, già che come si è esposta nella domanda, esiste un'evidente mancanza di accesso di queste legittime aspirazioni, delle aspirazioni di coloro che la sostengono ai centri istituzionali con capacità di decidere, credo che soddisfa tutte le esigenze per farla propria in questo Tribunale. In più, così facendo, il Tribunale darà continuità a una linea che è linea di principio e di attuazione con antecedenti di cui si è parlato in parecchi momenti in questi interventi. D'altro canto, queste pratiche delle grandi opere gestite da istituzioni pubbliche che realmente agiscono come una sorta di longa mano o forse brevi mano dei grossi interessi economici che promuovono, sono un'evidente manifestazione delle politiche antidemocratiche in questo momento profondamente radicate nei nostri Paesi. Queste politiche che in realtà nessuno ha votato, perché di solito non fanno parte dei programmi elettorali e stanno erodendo fortemente le nostre democrazie. Si tratta di forme di agire politicamente che Luciano Gallino ha descritto con efficacia come una sorta di colpo di Stato. Non so se dire colpo di Stato morbido. Colpo di Stato è certamente atipico, per i vecchi colpi di Stato colpivano la parte organica delle Costituzioni. Invece questo colpo di nuovo tipo colpisce la parte dommatica, la parte dei diritti, quella parte più ricca, quella che deve informare tutte le pratiche istituzionali e tutti i nostri rapporti. È vero che fuori delle regole costituzionali del gioco si attentano queste pratiche contro la dimensione sostanziale dei nostri ogni volta più deboli stati di diritto avviati per questo modo di agire verso un pericolosissimo e preoccupante cambio di sistema. Quindi per tutto credo che il Tribunale facendosi carico di questa domanda non solo si farà ecco delle vostre legittime pretensioni, ma contribuirà attivamente a una riflessione critica sui processi di degradazione in corso nei nostri marchi costituzionali. Per quello dobbiamo ringraziare la vostra fiducia nel Tribunale, però in più ringraziare anche la vostra lotta, che è una lotta per tutti noi. E anche ringraziare il fatto di attraverso questa domanda avere arricchito il contenuto delle future pronunzie di questo Tribunale. Grazie da tutto.